Casteldaiano, rispetto al Covid, ha passato un periodo estremamente burrascoso. Attualmente Casteldaiano è ritornato alla situazione del 2020, che era quella di un paese Covid-free praticamente. L'indice di contagio si è azzerato. Attualmente l'attività di vaccinazione, di screening prime di vaccinazione della popolazione che abbiamo potuto mettere in atto con l'aiuto e grazie alla disponibilità dell'azienda locale, dell'azienda sanitaria locale, sta dando i suoi frutti. Stiamo portando a termine le vaccinazioni di tutti gli over 65, dopo che sono già iniziate le fasce di età più giovane. Diciamo che non è più un obiettivo lontano, ma sembra una realtà che si sta stabilizzando. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!